Salute, ho i 25 de Gavudani 2017, benvenuti a Noasa in Curzu, inghiacciavosi con Teulada, mancai su tempus, non si aprisa come te 15 disivairi, sigintalompi, disperrausi, in escosta da desusulcesi, 17 vicocusi, totusi antinaudi essi algerinus e funti dottusi giovani, se vunti presentosi, o prescendi ai seus in tempus, differenti, se primo cinque faccia mesunotti, salompila esti stettia, poca poteulada, esattus d'oggi, insumare i desa antantiogo, bo dottusi, esti intervenia sa guardia devinanza, che ha posti dei visitati e identificazioni a Ritramudau e di sterrausi ai centri di Acato. Igrezi e foresti, poniti una sei in città e adesso guidare a Ugo Tanchis, i suffici usano a essi inilocalisi dei suoi spirali Fratelli Crovo, dunque ha risposto a rusa canta dei territori, poi su 24 comuni dei suoi uccisi. A Ritramudau su Gavorestas, in suo territorio, esti già in Marganai e in Pantaleo. A Ritramudau muda da scosso la vostra grotta di Santuani, avevano la delibera del suo Consiglio Comunale e il suo contratto che venga racconto sugli raddeppi e vice imprenditori, che si scelga questa grotta di Santuani e su un'uragio Sommessorco a randai in convenzioni di Bintanuso. Demo in antesi, in c'è resta la biletteria e si prevede l'individuo di altri servizi, usa commenta Infopoint Multimedialisi, guida turistica e specializzata e possibilità di escursioni. A San Matessicosa sarà raffaio su un'uragio Sommessorco. Gonesa, Mattia Melis ha cantato Missa per la prima volta a Aiseu, appunti su tempo del seminario, Mattia Melis è stato vatico e lavorato a Mery in questa sede e questa cattedrale del suo viscamo d'Egresa Giovanni Paolo Zedda. A Aiseu Ammengiano, sauriamo Missa per la prima volta, a Famigliari, amici e concittadini. In antesi di questa vocazione religiosa, Mattia Melis è stato laureato in Fisica, appunti a riscoverto questa vocazione e è stato inghiacciato sul percorso religioso che da portare a Bessi un uvreri missionario. Carbonia, Merquisi, Bintisetti dei Gabudani, ai cinque sull'hotel i sconsiglieri regionali Luca Pizzuto e Pietro Cocco, andato via il sindicoso e amministratori locali, poi vedrai della riforma sanitaria. in antesi di presentare gli ammendamenti, dunque a certi s'ascurdo dei sindicosi e degli amministratori si può appareggere questa rezza ospedaliera. Funti con Birauso, vincere i sociosi e i cittadini che tenenti interesse a partecipare. Carbonia, Industria 4.0, è il sudema di Sattopio in programma. costumeria ai cinque in questa sala dei convegni sull'hotel in via Costituente in Carbonia. Sviluppo, prospettivo e possibilità e opportunità che le rivoluzioni industriali nuove hanno a disposizione. D'Antafo e D'Indunatovia, Parigiao del suo giornalista Giuseppe Deiana e deputato Gianluca Benamati e Emanuele Cani, sui residenti dei Confindustria Alberto Scano, sui consiglieri regionali Cesare Moriconi e sui residenti dei Sugaci Salvatore Mattana. Ecco, a fare il nostro conto, il nostro importo, il nostro indizio di Gira, a buon altro, grazie per le informazioni in Canale 40. Adios!